La donna Chiarabonio è sempre la stessa, secondo me alla fine non cambia mai, comunque si veste, è sempre una donna femminile, morbida e accattivante. Mi piaceva l'idea di brillare anche in casa, di essere morbidi, di essere belli, anche facendo una vita più tranquilla. L'ho immaginata fluida, ma allo stesso tempo l'ho immaginata attraente. Questa è la libertà più importante e principale per una donna e poi la libertà della comodità secondo me una donna deve splendere sempre, anche nel quotidiano. Quando io salgo sulla terrazza di questa casa e posso guardare lontano riesco a immaginare il futuro che in questo momento non è così facile da immaginare. Immagino una donna che luccica, che apre le braccia e che abbraccia il futuro. Grazie. 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 Grazie.